Ma io sono ancora in pigiama E oggi direi eroi contro malvagi Mi avete consigliato di fare qualche match Di eroi contro malvagi Caccia all'eroe Eroi contro eroi Eroi contro malvagi E niente li provo Eroi contro malvagi Una modalità che mi sta piacendo molto ragazzi E spero vi piaccia anche questo genere di video Perché a me piacciono Ragazzi mi raccomando lasciate tanti mi piace Perché la serie è continui Vi ricordo che questa serie è basata su di voi E quindi dovete lasciare un sacco di mi piace Perché vada avanti Allora qui dobbiamo Allora adesso io sono un Perfetto Perfetto Molto bene questa cosa Ottimo Ok Io per il momento sono un mussoletto imperiale Poi arriverà il mio turno Dobbiamo cercare di difendere i nostri malvagi per il momento E di uccidere gli altri eroi Il problema è che gli eroi sono delle bestie Cioè non c'è Luke Skywalker è un animale da combattimento Poi c'è sta stronzona qua Allora No no c'è Wobbuffet Porca puttana Ah ah Aiuto Ah ah Scappa Scappa siamo nella bolgia amico mio Sono morto Allora bisogna stare un attimo concentrati Allora perché Come sappiamo tutti qui Gli eroi I supereroi sono difficili da buttare giù Ci vogliono un po' di colpi Però gli altri pipponi Oh mio signore ragazzi Stiamo facendo Degli risultati incredibili Oh Adesso siamo degli eroi ragazzi Siamo Boba Fett Soprannominato da me Wobbuffet Perché Come puoi non soprannominarlo Wobbuffet Uno che si chiama Boba Fett Stiamo un attimo sul pezzo Ah Aiuto Aiuto C'è Luke Abbiamo dei No ragazzi Sono morto Ma dai Dai raga Facciamo la Ma no Ma porca la puttana Ma non è possibile Ma ho sparato un colpo Niente 6-0 Basta Basta Finì Finì Allora questa mappa È un fottuto Bordè Oh giocherai come Laila ragazzi In questo momento Siamo Degli eroi E io sono quello a destra È un momento difficile questo Da occhio Che qui Qua si forma la bolgia qua ragazzi È qui eh Guarda 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 che spuntano Guarda che arrivano Eccolo là Guarda che spunta Stai attento bomber Stai attento amico mio Eccolo là Ah Scappa Guarda che lassù Figlio di troia Scusa Ecco Boba Fett Sparate Uccidete Eccoli tutti lì solo Vai Laila Leila Brava Ho ucciso qualcuno Almeno Ah Succa Oddio C'è Dada Dada Baba Bark Fender Questo cazzo di pistolone Merdoso Dai che ci udiamo Dark 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 Bender Sì Leila Va bene Leila Ottima prestazione Leila Ma minchia Abbiamo perso Ma porca puttana Non è possibile Oh giocherò il prossimo turno Come Luke Skywalker Ma c'è un problema Non so usarlo Perché quelli con il corpo a corpo Io purtroppo Non so usarli Vieni qua Vieni qua Vieni qua a te Vieni qua Merda Scappa Scappa Luke Ho deciso che li prenderò da dietro Sì Pupasta Guardalo Guardalo Pippone Chi è qua Guarda che c'è Boba Fett Muori Muori Boba Fett Vai che ammazziamo Boba Fett È morto Boba Fett È morto Boba Fett Ragazzi Siamo delle bestie Oddio Sono qua Oddio raga Oddio Eh ragazzi Eh Mamma Ma cosa è successo Dei supereroi ragazzi Cosa ho fatto con Luke Skywalker È una bestia Dicevo che non sapevo usarlo Mentivo Fenomeni Fenomeni E vai E vai Chi è Ma palpatine Ma guarda se mi deve uccidere questo vecchio schifoso Aiuto Madonna ragazzi Mi hanno Devastato Devastato completamente Vai Leila Ti copro il culo eh Chi è rimasto Allora Eh vabbè ragazzi Questo è Un gioco da ragazzo Allora Oh fuck boy ragazzi Mi ha fatto saltare in aria Madonna ragazzi Una tattica incredibile Ma te che cazzo vuoi fare Eccolo Luca Dark vendor Vai Boba Fett Arriva Boba Fett ragazzi Occhio alle bombe Guarda questo non gli faccio fare neanche mezzo secondo di vita Coglione Non devo morire raga Non devo morire Perché sennò qua Sono fottuto Sono rimasto da solo ragazzi Sono rimasto da solo Mancano 20 secondi Non devo morire Mi fa tempo Faccio il culo a qualcun altro Perché E vai Sono un fenomeno Arrivano in popamagna Via spara qualche colpo caso Dov'è Dark bagno qua Sì Tanto che si sparano loro due Cioè ma Non è possibile Ma ho ammazzato con i miei stessi colpi Dove è andato sto bastardo Facile così Facile Allora Ma come assistenza Mi puoi dare l'assistenza uccisore 100 Oddio è qua È qua raga Eroi ferito ragazzi È andato È andato È andato Lo buttiamo giù raga Lo buttiamo giù Ci tira una granata Così a caso No Non me la fa tirare Grande vittoria Che vittoria incredibile ragazzi Sono a 26 13 E adesso sono Luke Skywalker E andiamo a fare il culo A tutti quanti ragazzi Andiamo a fare il culo A tutti quanti Forza È Boba Fett Muori Boba Muori Boba Muori Muori Boba Dai che lo facciamo fuori raga Oddio Oddio L'importante è far fuori Un eroe È solo una bestia È solo ancora in vita Con Luke Colpiamo Boba Forza Forza Ah no è palpatine Ma signori Ma sono un fenomeno Ma sono un fenomeno Abbiamo vinto anche questo Siamo a un round Dalla vittoria totale Oh uno è andato Aiutiamo Aiutiamo Addio Luke È andato anche Dark Dart Scusate Ci siamo raga Eccolo palpatine Eccolo palpatine Eccolo palpatine È andato Ma sì ma io Ma no ma in che senso Ma non è possibile Che avevo ucciso Ma ragazzi ma fatelo fuori Signori Una vittoria spettacolare Che cosa spettacolare Che è successo oggi Tra l'altro io 29-16 Un fenomeno Un fenomeno Pazzesco ragazzi Incredibile Proprio lui Bene signori Spero che questo video vi sia piaciuto Ragazzi mi raccomando Sotto nei commenti Un consiglio su Più danni inflitti agli eroi Ragazzi Sono un super eroe Fatemi sapere sotto nei commenti Qualche altra modalità Che vi piacerebbe vedere Lasciate un mi piace Per il sostegno ragazzi Ci tengo molto Un commento Un consiglio Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi